musica what the aaaah aaaah musica 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 akuna matata ragazzi ben ritrovati dal vostro cicciocamera89 siamo tornati nel nostro box vi dico solo che nel giro di prova dove ho guadagnato un punto importante per il nostro sviluppo della moto ci hanno lasciato semplicemente 6 secondi di distacco ecco vi volevo dire semplicemente questo perchè secondo me non riusciamo veramente a fare nulla probabilmente sarà così probabilmente se siamo incasinati da solo da soli prendendo il team del paguro il sudato team perchè secondo me con sta moto qua ragazzi ci siamo dati una bella zappa sui piedi però sarà sicuramente più divertente il problema secondo me sarà che non avremo grandissime possibilità per andare sul podio almeno questo credo io poi magari mi sbaglio eh adesso proverò a girare tantissimo con sta moto anche perchè ancora eh ci devo prendere confidenza questo penso che lo sappiate tutti è fichissima è fichissima sembra una moto futuristica per i colori che c'ha poi comunque oh ragazzi il suono la forma è tutta un'altra cosa rispetto alla moto 3 eh e pensate che ci stanno pure le moto ancora più grosse quindi datevi un attimo una mano sulla coscienza e ditemi dopo come cazzo potremo fare non lo so eh purtroppo con questa moto non riesco a fare le curve morbide cioè nel senso le faccio sempre molto spicolose e ovviamente questo è un problema d'entrata e uscita in curva che dovrò sicuramente risolvere ma io ho il timore che le curve le prendo troppo strette all'inizio secondo me le devo allargare un pochino ma ne sono quasi sicuro ragazzi eh allora guarda mi fa qualche prova poi comunque dopo farò qualche prova perchè secondo me è così perchè tanto la curva va tagliata e non capisco perchè io faccio sempre le curve strette all'inizio invece che prendere la larga tagliare la curva e uscire largo che sarebbe la cosa giusta no? tipo così oh vedi che già è un pochino meglio però ovviamente non è che tutte le curve oh mamma mia riesco a prenderle bene però se ci proviamo qui potevo uscire velocissimo magari un pochino abbiamo migliorato eh non lo so vedi così che ah 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 dirò 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 che secondo me con questo sistema qua riusciamo anche a fare un pochino di più ok qua purtroppo ho sbagliato non ci posso fare niente prendo la responsabilità di quello che ho fatto vediamo un po' questo dovrebbe essere il trilinio loro adesso per andare in podio bene adesso hanno finito fatemi girare un po' per vi faccio sapere va ok ragazzi eccoci qua abbiamo finito le qualifiche siamo finalmente in gara e come sono arrivato? sono arrivato tredicesimo non male non male una cosa che devo cambiare è l'89 sul davanti della moto perché è inguardabile allora ragazzi come obiettivo io direi che decimi ci va più che bene però guarda c'è Nakagami c'è Corsi che va di corsa e c'è uno stronzo qua a destra a me perché giusto stronzo può essere scusate tutto a posto ok ho tipo ammazzato calio qualcosa del genere ok sono andato addirittura troppo ok va bene così però vi dovete togliere il cazzo ragazzi cortese cortesiamente se togliere il cazzo ok c'è loot si meone ci stanno tutti tacci che bei ricordi mortacci come si è andato fuori ok tutto a posto ma noi che cazzo ce frega c'è un 4x4 mica c'è una moto noi dai 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 che ce l'abbiamo tutti qua raga dai 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 bello veloce bello veloce come piace a noi ok c'è morbidello c'è morbidoso chiamiamolo morbidoso chiamiamolo morbidoso attenzione fatemi una foto su instagram con morbidoso per favore taggatemi ok ok posso uscire bello velocello bello velocello mamma mia come la sto tirando al massimo sta moto ma la sto proprio tirando al massimo morbidoso per favore se faccia i cazzi suoi eh che qua già c'è un sacco di problemi di cazzi nostra ovviamente non c'ho più rewind eh raga come va come va raga che vedo dai 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 quelli là davanti sono praticamente irraggiungibili per me almeno penso eh almeno per il momento più che altro dai che belle curve qua stiamo giocando bene qua stiamo giocando proprio bene ragazzi mi piace se riusciamo a mantenere guarda morbidoso è bellissimo se riusciamo a mantenere questa mamma mia regà come ho rischiato il posteriore stava andando a fanculo mamma mia ragazzi è difficilissimo ah stiamo calmi qua eh fatemi frenare fatemi frenare bene ok 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 non male non male vai vai così scatena la forza del sudato team ma sì ma pure in mezzo all'erba va bene tutto su tutto sta moto vi ho detto c'è un 4x4 mica c'è una moto normale noi dai 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 c'ho la moto che porco de quanto sgomma è impressionante eppure sto bruciando di più l'anteriore che il posteriore vai così vai così vai così apri tutto apri tutto apri tutto raga come vedete sto giocando abbastanza bene a mio avviso però potremo sicuramente fare meglio ma con questa moto non lo so ditemi voi che cosa ne pensate perché secondo me questa moto qua non è che possiamo puntare ai risultati incredibili secondo me poi non lo so ovviamente qualcuno sicuramente più bravo di me ci sarà però non lo so proprio raga non lo so proprio ok qua potevo uscire un po' meglio guarda qua come sono uscito bene no 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 oh madonna mia l'ho ricchiappata raga l'ho ricchiappata bene l'ho ricchiappata proprio bene vai 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 così siamo al secondo giro ragazzi stiamo giocando bene ok siamo usciti abbastanza veloci sbaglio non lo so dietro ce l'ho tutti raga eh dietro ce l'ho tutti però i nomi non me li fa vedere ultimo giro ragazzi rabat batman poi ci siamo noi ok qua purtroppo c'è morbidoso c'è morbidoso portaci due morbidoso rivatteli via rivatteli via morbidoso non te voglio vedere sei uno strozzo sarei morbidoso però cerchi di superam brutto bastardo che secondo me quell'altro davanti a noi potremmo pure riprenderlo con un po' di culo però non lo so però non lo so taglie così mamma mia stamm'a rischià eppure io a casa me la porterei in una sesta posizione raga ve giuro che in una sesta posizione me la porterei mamma mia ragazzi purtroppo un pochino sto perdendo adesso eh un pochino sto perdendo vai e gira porca merdosa vai così vai così gira questa l'ho presa di merda ve lo dico già in anticipo ok però forse qualche millesimo lo sto riprendendo sul quinto però poco e niente raga io dovrei settare il cervello su mantenimento posizione però purtroppo il cervello su sta su sta cosa non me ce non me ce se mette quello è il problema non me ce se mette proprio anche perché una volta che mantieni fai cazzate come in questo caso che c'è un morbidoso dietro al culo con calma morbidoso eh con calma morbidoso eh con calma con calma morbidoso morbidoso del cazzo l'ultima curva vai 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 abbiamo presa benissimo raga l'abbiamo presa da da oscar da oscar da oscar stai dietro morbidoso stai dietro morbidoso stai dietro morbidoso mamma mia ragazzi dai 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 ci siamo comportati proprio bene ci siamo comportati proprio proprio bene e secondo me ci sta però guardate che differenza dal primo al quinto raga eh cinque secondi sono tanti eh cinque secondi sono tanti mamma mia che motori speed up siamo addirittura primi in generale no come sponsor come cose eh qua dobbiamo arrivare a un sacco di punti raga tipo 550 mila anche se oggi non è riuscito a salire sul podio il suo piazzamento in gara dimostra che moto e pilota sono competitivi e possono ambire a traguardi molto importanti raga purtroppo sarà importante sulle qualifiche io questo già lo so comunque non è andata male non è andata male signori se il video vi è piaciuto mi raccomando pollice in su commentate condividete se non siete iscritti iscrivetevi al prossimo appuntamento col vostro ciccio chiamero 89 a me lo die che non ci sia qualcosa di incredibile che c'è che c'è st'acqua magari non è che tante volte morbidoso ci parla guarda caso morbidoso oggi con sudato abbiamo dato vita ad una vera e propria battaglia c'è stato qualche contatto ma è stato un duello leale queste sono le gare così disse morbidoso grazie